E' partito ieri sera dalla chiesa di San Nicolò il pellegrinaggio per città del Vaticano, dove le comunità religiose di Adrano e Alcaralifusi incontreranno il Santo Padre mercoledì. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'anno giubilare per i 500 anni della canonizzazione del Santo Eremita. A Papa Reitzinger verrà consegnato un lembo di pelle della testa del Santo. La reliquia è contenuta in una teca realizzata da un argentiere palermitano. In essa sono decorate pietra lavica e arenaria, simbolo dei due paesi che l'hanno fatta realizzare. Nell'opera campeggia anche un'aquila, icona condivisa negli stemmi delle due città, con un pezzo di pane in bocca a ricordare che il Santo Adranita venne sfamato per tutta la sua vita dal cielo. Grande naturalmente l'emozione dei pellegrini per questo viaggio di fede, sicuramente l'evento centrale dell'anno giubilare. Frate Giorgio, è tutto pronto per andare a Roma in questo pellegrinaggio dal Papa in occasione del 500esimo anniversario della colonizzazione di San Nicolò Politi? Con quale spirito? Con lo spirito almeno di Adranita, dei pochi Adranita che forse ci crediamo. Io mi ricordo allora Padre Nicola Artino di Alcaro Lefusa, era molto ma molto devoto. Faceva in parte un po' la differenza anche con noi, anche Cappuccino, Padre Dionigi, altri frati Cappuccini. La devozione che aveva Padre Nicola mi ha fatto veramente da maestro e quindi sento anche io il dovere di fare questo primo pellegrinaggio a San Nicolò Politi. Non sono stato mai ad Alcaro Lefusa, è quasi con vergogna che lo dico. Eppure lo sto facendo questo di Roma con questo spirito, come se andasse proprio a vedere San Nicolò Politi, non più allo spiegore che ci sono stato tante volte, ma ad Alcaro Lefusa. Signora, è tutto pronto per andare a Roma in questo pellegrinaggio dal Papa? Con quale spirito vi accincete a raggiungere la capitale? Ma in effetti siamo un pochettino emozionati perché per me è la prima volta che vado a vedere il Papa. A Roma sono stata altre volte ma questa è la prima volta. Però con questo spirito naturalmente di portare il nostro Santo più agli altari della gloria che si può, ci farà sempre piacere. Signora, emozionata, tra meno di due giorni vi troverete davvero da vicino il Santo Padre. Sì, tantissimo, perché c'è stato speciale Giovanni Paolo II, ma anche questo è un Papa molto speciale, in quanto è una persona colta, è un teologo, quindi penso che riceveremo molto da questo Papa. Il messaggio più grande che ci ha lasciato San Nicolò Politi è che nella vita i beni materiali non servono a niente se non c'è poi l'amore di Dio, che è la cosa davvero fondamentale. L'umiltà che oggi manca, l'umiltà, l'amore, l'amore che lui aveva per il Signore e avendo l'amore c'è tutto, perché chi ama sperimenta il Signore, chi ama c'è Dio nel cuore. Quindi questo auguro me lo faccio a me stessa e lo faccio a tutti, a tutti quanti, a quelli che stiamo partendo e a quelli che rimangono e per tutti quelli che lo conosceranno a San Nicola.